Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Oggi vedremo una partita, il quarto round, della Clown War Gov vs AZZ. Questa è la partita di attacco su Operazione Metro, siamo noi gli attaccanti, stavolta è un pochettino più interessante come partita perché essendo attaccanti la partita è durata di più, mi sembra, non sono nemmeno sicuro, in ogni caso la partita è più interessante perché abbiamo avuto anche la possibilità di avanzare e non solo di difendere. In ogni caso la mia squadra era assegnata all'obiettivo Bravo, quindi quello che dovevo fare io era aiutare la mia squadra o andare a piazzare l'obiettivo Bravo, mentre le altre squadre invece si dovevano occupare dell'obiettivo A. In ogni caso noi subito andiamo a pushare su Bravo e io mi metto in questa posizione che è un pochettino sopraelevata dalla quale magari non riesco a scorgere l'obiettivo Bravo, ma riesco a vedere gli avversari che dai dintorni di A corrono verso B, quindi cerco un pochettino di controllare questa parte centrale della mappa dato che non c'era quasi nessuno. Sfortunatamente lì faccio un errore perché non salto giù dal muretto ed ero in campo aperto stupidamente però essendo una clan war ovviamente i miei alleati mi hanno rianimato. Mi preparo, prendo vita e mi preparo immediatamente a continuare la partita benissimo. Quindi i nostri alleati hanno piazzato nel frattempo la carica che fra poco scoppierà e resta una volta piazzata la carica su Bravo ovviamente tutta la squadra inizia a convergere sulla carica alfa che è come dovrebbe essere perché adesso tutti possono impegnarsi su un solo obiettivo. C'erano già abbastanza alleati secondo me quindi non sono andato anch'io proprio direttamente in carica magari giravo sempre qui intorno cercando dei nemici da uccidere però poi mi decido a stare un pochettino più sulla destra perché in questo modo riesco a uccidere quei nemici che magari provano a correre verso di là e quindi supportare la mia squadra in questa maniera. Praticamente attiro la loro attenzione in questo modo non vanno a disinnescare anche se probabilmente non avrebbero disinnescato comunque perché c'era già tutta la nostra squadra lì. In ogni caso le uccisioni non le vedete cioè non viene nemico ucciso semplicemente perché durante questa clan war non venivano assegnati i punti quindi soltanto le uccisioni a fine partita non vedrete i punti. E una volta piazzata anche l'altra carica ovviamente non sono riusciti a disinnescarla eravamo troppo troppo in vantaggio anche in questa situazione cosa che non cambierà diciamo fino a fine partita e ci prepariamo al prossimo push. Qui ci sono tre entrate io preferisco sempre prendere quella centrale perché onestamente quella a destra è troppo angusta e poi ci sono quelli che camperano giù controllando sempre quelli che escono dalla porticina dall'alto se capite cosa intendo. Quella centrale è la mia preferita e quella a sinistra invece non ha affatto copertura. Passo sempre da quella centrale, guardate che belle texture passo sempre da quella centrale perché ho tutto questo treno qui nel caso mi servisse copertura posso entrare, sdraiarmi lì dentro e recuperare la vita con calma ma come vedete non c'è nessuno. Vedo soltanto un paio di colpi volare e ovviamente mi giro subito a destra a uccidere quell'avversario che era camperato lì sotto e che sfortunatamente però ha ucciso il nostro supporto che sfortunatamente non posso nemmeno rianimare. In ogni caso qui faccio un po' di gioco di squadra col mio amico che ha bisogno di vita allora vado io a uccidere l'avversario prima di ritirarmi e prendere la mia 40-50 di vita che ho perso. Aspetto un attimo, carico senza buttarmi nell'azione e in realtà io dovevo andare ad attaccare sull'obiettivo bravo però mi sono ritrovato da questa parte della mappa per colpa di un paio di manovre che ho fatto per via, non per colpa di un paio di manovre che ho fatto con quel mio compagno di squadra e semplicemente invece di pushare direttamente l'obiettivo B decido di provare una flank, un piccolo flank quindi cerco di passare da dietro ai nemici qua sono contro un cecchino sapendo la superiorità della mia arma in questa situazione mi faccio avanti senza problemi perché anche se mi avesse colpito con un colpo sarei comunque dovuto sopravvivere in teoria poi la pratica su Battlefield sapete che è sempre un po' diversa dalla teoria in ogni caso qui vado subito in carica a piazzare quindi la mia mossa non è stata proprio utilissima e uccido quel nemico che pensava di poter persino scappare ma stai scherzando? in ogni caso qua ero pronto ad affrontare l'angolo non pensavo che qualcuno venisse correndo sull'angolo in quel modo e quindi ha avuto fortuna più di me ed è riuscito a uccidermi questa è la morte che faccio non riescono a rianimarmi, non so per quale motivo erano tutti qua in ogni caso fa niente, capita e mi preparo subito al prossimo push verso l'obiettivo alfa che è già circondato dagli alleati non so nemmeno perché ci hanno messo così tanto a piazzare nel senso avrebbero anche potuto farlo prima tanto di nemici non ce n'erano sto qui un attimino a siterare la carica ma vedendo che non arriva nessuno decido di nuovo di andare più in prima linea e vedendo un cecchino sulle lunghe distanze cioè, medio distanze lo butto giù per evitare che magari uccida dei miei alleati che erano morti dietro su rianimazione continuo ad avanzare sempre un pochettino di più però più di così non posso andare avanti perché dobbiamo aspettare che scoppi l'obiettivo e bla 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 e questo magari è il push che solitamente perché in questa partita è stato facile anche questa parte della partita ma solitamente su corso operazione metro questo è un punto abbastanza critico perché abbiamo soltanto tre possibilità o queste scale mobili o quelle dietro o le scale a destra le scale a destra non mi piacciono più di tanto perché è semplicemente un bordello nel senso sono sempre tutti lì sono sempre tutti lì rammassati è una buona posizione perché se c'è gente lì può aiutare la gente che cerca di salire centrale a svuotare la zona però allo stesso tempo la gente qua su queste scale mobili dove sono ora deve aiutare a svuotare qui sopra perché altrimenti la gente che è qui può sparare a quelli sulle scale quindi una collaborazione fra queste scale mobili e le altre è sempre buona qua sono stato scaraventato in alto a quanto pare perché mi rianimano il mio corpo chissà dove è andato in ogni caso questa posizione solitamente è davvero ottima questa posizione serve tantissimo per prendere la bandiera B ad esempio su conquista quindi cercate sempre di tenere una buona posizione qui ovviamente è stato tutto inutile perché abbiamo già fatto fuori tutti i nemici come al solito cerco di supportare la mia squadra attirando l'attenzione del nemico e come dire andando più avanti sulla mappa andando sempre in prima linea e sì segnalando i nemici che vedo soprattutto ecco una cosa importante ragazzi segnalate sempre adesso soprattutto se siete su console ad esempio non so su computer che tasto è ma su console il tastino dello spot è quello sopra il tastino per sparare R1 è per spottare e R2 è per sparare premetelo premetelo sempre perché segnalerete i nemici e sarà molto molto più facile per la vostra squadra capire dove si trovano gli avversari sulla zona in ogni caso questa questa biglietteria qui alla mia sinistra è molto molto importante come posizione perché consentirà la vostra squadra di avanzare se la vostra squadra ha questa parte questa piccola biglietteria della mappa e stanno pushando i nemici faranno davvero davvero fatica a passare perché avrete semplicemente un sacco di copertura e loro non ne avranno è brutta da attaccare ma è bellissima quando ce l'avete quindi magari un push qui può essere sempre utile è molto più facile attaccarlo venendo da B che venendo da C però se riuscite a prenderla prendetela sempre ragazzi qui dentro guardate che bellezza si vede tutto il corridoio bello libero in ogni caso qua stavamo aspettando di poter procedere e come al solito io sono lì a spottare cerco di comunque non sprecare troppi colpi inutilmente tanto per fortuna avevamo Spinal Flipper che faceva il supporto in squadra qui decido di fare un'uccisione qui a destra dopodiché questa zona era già completamente vuota cioè nel senso nel giro di 5 secondi da quando potevamo passare siamo passati forse qui in una partita un po' più organizzata sarei passato da sinistra invece di andare direttamente a destra questo nemico questo mio alleato sparisce nel nulla in ogni caso forse sarebbe stato meglio andare a sinistra però data la situazione molto molto leggera che avevamo ho deciso di passare da destra come al solito qua vedete l'obiettivo bravo quindi ovviamente è il mio obiettivo e quindi ovviamente pusho verso lì vedo che non c'è nessuno allora mi posso fare avanti e appena vedo il mio alleato che corre verso la carica per piazzarla decido di coprirlo sempre come al solito attirando l'attenzione dei nemici ragazzi attirare l'attenzione dei nemici magari avrei fatto meglio togliere persino il silenziatore in questa partita per questo motivo è fondamentale perché principalmente se i nemici stanno mirando voi i vostri alleati non si devono preoccupare dei nemici e questo ovviamente vi porta ad aiutarli perché voi magari riuscite a gestire la situazione loro invece se la gestiscono molto molto meglio perché semplicemente il nemico sta sparando voi allora loro possono sparare al nemico che ovviamente si sta proteggendo dai vostri colpi non dai loro e ovviamente non ha nemmeno la testa di andare sugli obiettivi questa partita finisce così vedete dai punteggi come li abbiamo distrutti noi ci vediamo al prossimo video mettete un mi piace per il 1080p bella ragazzi ciao ciao